Dal 14 al 19 agosto i volontari di Accademia Kronos saranno presenti con il loro stand, il numero 58, a Sagrale, alla rassegna del pigato di Sale ad Albenga. Verrà presentato il corso per guardia ambientale zoofile, il nuovissimo nucleo cinofilo già forte di tre iscritti e delle guardie a cavallo con due iscritti, ancora sperimentali, fiori all'occhiello delle guardie zoofile ambientali di Accademia Kronos. Gioco del tappo, filmati sulla fauna e flora Ligure, sfilata di bellezza per i nostri amici a quattro zampe, in collaborazione con Empa di Albenga e il supporto degli amici degli animali della Croce Bianca di Alassio. Sarà possibile trovare il calendario Kronos 2019 e il manuale operativo per gli operatori del settore ambientale zoofilo, libri di cucina Ligure, centinaia di gadget per tutte le età, piante fiorite, erbe officinali, sangria fresca e biscottini della nonna. Ogni sera si alterneranno volontari delle varie sezioni di Kronos, Diano Marina, Imperia, Val Bormida, Sanremo, Ponente Savonese, Alassio, Albenga. Nello stand di Kronos ci sarà inoltre un contenitore dove potrete portare cibo per i cani e i gatti del canile di Enesi, tra l'altro tutti adottabili previo controllo.